Ciao, sono Marco, ho 17 anni e sono in groove da quando ne avevo 8. Tra prove con vera e band e lezioni di batteria sono praticamente quasi tutti i giorni in groove, il che è veramente un'esperienza unica perché ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. La cosa più importante è che conosci veramente tanti amici con cui condividere la tua posizione per la musica. E niente, ci si vede in groove.